Bentornati! Oggi cucinerò un hamburger, però visto che siamo al mare, di pesce, più precisamente di orata. Iniziamo! Prendiamo il nostro filetto di pesce, ci mettiamo un pizzico di sale e lo infariniamo. Per bene. Prendiamo una padella, ci mettiamo l'orio d'oliva e mettiamo il nostro filetto. Il nostro filetto è pronto e adesso mettiamolo sul piatto. Oh, voilà, che bello! Prendiamo il pane per l'hamburger e lo tagliamo. Ecco, fatto. E lo saltiamo in padella per qualche minuto. Ecco, il nostro pane è pronto. E ora tagliamo una fretta di pomodoro. Dopo che l'abbiamo tagliato, mettiamolo su un piattino. E adesso è arrivato il momento più divertente. Componiamo il nostro fishburger. Iniziamo mettendo una fretta di pane, poi una foglia di insalata, visto che è più salutare. Poi il nostro pesce, il nostro pomodoro e infine la fretta di pane. Oh, che bello! Ecco qui, il nostro piatto è concluso. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo in un altro video per un'altra. Ciao, ciao! Ciao!